Noto truffa, paga polis assicurativa ma non arriva il contratto, ha denunciato 22enne napoletano. Nella giornata di ieri agente del commissioneato di Noto al termine di una puntuale attività investigativa hanno denunciato un giovane napoletano di 22 anni per il reato di truffa, in particolare il 28 marzo scorso una donna di Noto avendo necessità di attivare una polis assicurativa per la propria autovettura visitava un sito internet che le inviava un preventivo di 192 euro annuali. La donna effettuava il pagamento attraverso la ricarica di una carta di credito presso un tabaccaio ma non ricevendo alcun contratto nei giorni a seguire inviava una mail alla compagnia assicurativa per ricevere delle fiduazioni, non ottenendo però nessuna risposta. Da qui la querela per truffa, gli accertamenti sulla carta ricaricabile sull'utenza telefonica consentivano di risalire all'autore della truffa, un giovane napoletano che raggiunto dalla polizia del posto veniva definito in stato di libertà per truffa.